...quindi non mancate di visitare il profilo Facebook anche dell'auto demolition, intanto Sono arrivato anche con il numero 125, casi molto delicate anche a livello per questi piloti che in pochi giri si considerano a eliminazione il... ...un ingorgone che neanche accattava il 27 di luglio, al ritorno dalla Torino, sulla Torino Serrano... ...e la prima posizione numero 168, problemi purtroppo per il numero 125... ...cambi toccati... ...con il numero 83, Riccardo Marino... ...tiene la testa del suo giro... ...verrà eliminato... No! Hai visto che c'è ancora una ruota posteriore destra ad assetto oblicuo o nonché orizzontale... ...vince a mantenere la seconda posizione... ...ma è numero 178, ma è un pochissimo... ...ma è una ruota che può accadere... ...ma tagliano il traguardo... ...i due concorrenti del team per nuova demolizione... ...e viene eliminato con il numero 78, Giuseppe Vicino... ...ma partiti! Grande battaglia! Una finale tutta nuova demolizione... ...con Riccardo Porise... ...un terzino di spirino... ...al suo piove! Ahhh! GRANDEEEEEEEEEEE! Ahahahah